Grazie a tutti. Grazie all'organizzazione, all'Istituto Culturale Torquato Tasso, ad Aldo Meccariello che mi ha proposto di ricordare, di partecipare a questo ricordo. Io ho dato un titolo a questa breve riflessione e già il titolo che adesso vi leggo farà capire il taglio dal dissenso cattolico al desiderio di giustizia. Vorrei partire, e poi ho messo una sorta di sottotitolo, passando attraverso la sacralità del potere, che è l'elemento che congiunge queste due parti del titolo, il dissenso cattolico e il desiderio di giustizia. Vorrei partire da una riflessione ad alta voce sull'esperienza del cosiddetto dissenso cattolico, dalla quale, attraverso la comune partecipazione alla redazione del Tetto, in anni ormai lontani è cominciata la mia amicizia con Domenico Iervolino, che come tanti napoletani, primo fra tutti Pasquale Colella, fondatore, direttore del Tetto, amico di Iervolino prima che mio, che non sta tanto bene ormai, ma dall'alto dei suoi 90 e passa anni, che, quindi, dicevo, la mia amicizia con Domenico Iervolino, che come tanti, a partire da Pasquale Colella, io mi sono sempre ostinato a chiamare Mimì. Lui non lo amava, però, di fatto, lo chiamavamo Mimì. Ovviamente non è questa la sede, né io avrei le competenze, per un'adeguata ricostruzione storica del fenomeno, quello che si è chiamato dissenso cattolico. Mi limiterò, invece, a una testimonianza, basata su uno sforzo di autocomprensione critica di una serie di esperienze personali, che, almeno in parte, posso presumere condivise da chi visse quegli anni. Ovviamente io qui voglio parlare di Mimì, che aveva esattamente dieci anni più di me. L'ho conosciuto nei primissimi anni 70, ancora prima di andare io all'università, dove mi sono iscritto nel 73, e dove, ovviamente, l'ho ritrovato subito come collaboratore della cattedra di filosofia del linguaggio. Voglio parlare di lui, però devo dire alcune cose, diciamo, di me. L'ho conosciuto, come dicevo, attraverso il tetto e il dissenso cattolico, cristiani per il socialismo, la partecipazione a quel fermento, a quella, diciamo, area culturale, politica, religiosa, anche filosofia. Erano appena finiti gli anni del concilio ecumenico Vaticano II, che ero troppo piccolo per aver vissuto come anni di grandi speranze di rinnovamento. Naturalmente il mondo cattolico non fu per niente compatto nell'accettazione del concilio. Alcuni vi si opposero tenacemente, pochi altri lo presero sul serio. Il cosiddetto dissenso cattolico nasceva dalla delusione di veder bloccato il rinnovamento conciliare. In prima battuta, il dissenso cattolico consisteva nel contestare radicalmente le resistenze dell'istituzione ecclesiastica al cambiamento. Su questo piano, la sua forza di penetrazione e la sua sfera di influenza erano sicuramente limitate al mondo cattolico tradizionale. Ma c'era un aspetto più profondo del cosiddetto dissenso cattolico, attraverso il quale esso si trasformava da fenomeno di nicchia a esperienza avente un valore più universale. Si trattava della contestazione della sacralità del potere istituito, con un conseguente allargamento del discorso al di là del potere delle gerarchie e delle curie. In questo modo, il movimento del dissenso cattolico provocava una presa di coscienza e una mobilitazione di energie che consentivano di mettere in discussione la pretesa di insindacabilità e di indiscutibilità del potere da parte di una qualunque istituzione. Ben al di là della sola esperienza religiosa. Certo, l'istituzione ecclesiastica era la istituzione princeps in questa pretesa di giustificare la sacralità del suo potere in nome di un'origine divina, indiscutibile e insindacabile. Resta il fatto però che questa giustificazione, cioè questa presunta, questa rivendicazione di una presunta insindacabilità occultava l'inevitabile ricorso alla discrezionalità e storicità delle mediazioni umane senza di cui quella origine divina resterebbe inaccessibile. Ed è esattamente il demistificare la pretesa di un accesso diretto, di un accesso immediato all'origine divina. La pretesa di occultare questo elemento che fa emergere in primo piano il ruolo dell'interpretazione. E io qui trovo la radice ultima, la radice nascosta dell'interesse costante nel pensiero di Mimì, ma nel pensiero di tanti di noi per l'ermeneutica, perché la disciplina che è andata sotto il nome di ermeneutica, l'ermeneutica filosofica, ha questo interesse nel mettere in primo piano quel movimento che il potere istituito la legalità vigente, in modo particolare all'interno del mondo cattolico, ma non solo in quello, tende a denegare, tende a disconoscere, per autorappresentarsi come portatrice di una capacità d'accesso diretto all'originario. Abituarsi a smontare la pretesa di insindacabilità del potere ecclesiastico. E' stato, per dir così, un ottimo allenamento per non tollerare in nessun ambito sociale, politico e culturale la sacralità del potere istituito. A mio avviso è esattamente da qui che nasce una delle motivazioni più profonde e ricorrenti della stessa ricerca filosofica di Mimì. Motivazioni che non hanno mai escluso un intenso e costante impegno critico sull'attualità sociale e sulle sue dimensioni etico-politiche. Il filo conduttore di quest'impegno è stata allora una forte e radicale rivendicazione di laicità nello stesso riferimento alla questione cattolica. Si spiega così l'adesione al tetto, la partecipazione ai cristiani per il socialismo, eccetera. L'adesione al tetto, voglio soprattutto soffermarmi sul fatto che il tetto rappresentava, rappresentato negli anni 60, quindi ancora prima del momento in cui io ho conosciuto Mimì, ma quando lui invece già aveva aderito alla rivista che era nata poco prima della adesione sua alla rivista, la rivista è nata nei primissimi anni 60 e poco dopo Mimì ne ha fatto parte, e voglio ricordare l'instancabile, oggi scontata, ma allora niente affatto scontata, contestazione dell'unità politica dei cattolici, le battaglie anticoncordatarie, tanto per ragioni civili quanto per ragioni religiose. Su questo piano voglio associare la memoria di Mimì a quella di un altro amico e collega che non c'è più, anche lui professore di filosofia, Francesco Saverio Festa. E poi così, fuori, voglio solo dire una cosa, perché pensando a tutto questo, diciamo, tutto ciò che c'è dietro e anche la sofferenza che tanti, forse noi un po' meno, ma in fondo anche noi, noi molto giovani, noi forse ce ne fregavamo, ma insomma Mimì forse ci rimaneva più, ne soffriva di più, ma quello che è stato il rifiuto radicale dell'istituzione ecclesiastica rispetto alle istanze di rinnovamento che il distenso portava avanti e che per una serie di persone che Mimì ha conosciuto più di me, più direttamente di me, io più da lontano, non so, penso per esempio a come Mimì ha introdotto sul tetto le lettere con le quali Giulio Girardi, come dire, si congedava dall'istituzione che lo metteva alla porta, cioè cos'era la congregazione dei Salesiani e voglio ricordare, non so, per esempio l'esclusione di Giovanni Franzoni, se uno pensa che quelli che cacciarono queste persone erano coinvolti con la banda della Magliana, seppellivano Renatino De Pedis nella chiesa di Santa Pollinare, facevano questo tipo di operazioni e allora io ero più giovane, ma alcuni ci sono rimasti, è una cosa che secondo me dovrebbe fare indignare, era la chiesa che copriva i pedofili, che abbiamo ricordato prima, metteva un silenzio di tomba sulle iniziative di quel porco di Marcel Masial, e poi la rivendicazione della sacralità, del potere e il rifiuto l'emarginazione del distenso cattolico. Va bene, dalla stagione del distenso, questo è un elemento che mi viene quasi, ogni volta che ci penso, dico ma come era possibile che poi ci fosse questo e si pretendeva che ci fosse con quella gente, con quella genia, una sorta di comunità, ma che comunità vuoi avere? Dalla stagione del distenso deriva quindi anzitutto la volontà di non accontentarsi delle giustificazioni ideologiche del potere, tanto religioso quanto civile, giustificazioni che troppo spesso nascondono le motivazioni di scelte e prese di posizione concrete, riconducibili alla logica delle appartenenze, alla salvaguardia di interessi che non sa il coraggio di confessare. Analogamente discende dal riferimento all'esperienza del cosiddetto distenso cattolico, una concezione molto esigente dell'impegno religioso e della militanza politica, una concezione che si rifiuta sempre di mettere a tacere la propria coscienza, cioè la capacità di giudicare i fatti senza l'avallo dell'autorità. In altri termini, non sono autentiche per questo tipo di impostazione che deriva dall'assimilazione delle ragioni del distenso, non sono autentiche né una religione né una politica che in nome del principio di autorità esiggano dai propri adepti di mettere a tacere il desiderio di giustizia che anima la coscienza civile. Ogni volta che la fedeltà ha un credo religioso politico, impone il sacrificio del proprio civismo con la conseguente necessità di nascondere l'indignazione morale, è necessario, anzi eticamente e politicamente indispensabile di sentire. Infatti, contrariamente a quanto viene contrabbandato come collante necessario dell'appartenenza a una comunità religiosa o politica, sul piano etico non ci sono ragioni istituzionali che possano giustificare atteggiamenti e pratiche moralmente inammissibili e penalmente rilevanti. E questo è il principio di fondo che ha ispirato la denuncia di un certo atteggiamento ecclesiastico di silenzio, indifferenza e sottovalutazione della delinquenza organizzata, camorra e mafia, o della pedofilia e dall'altro lato il rifiuto dell'antropologia dell'appartenenza, troppo spesso praticata anche dai partiti della sinistra, mirante esclusivamente all'occupazione di posti di potere allo scopo di meglio blindare il consenso. Qui si tocca una sfera che è sulla prescinde e precede l'accertamento delle responsabilità penali sempre individuali che vanno lasciate agli organi competenti. Tocca viceversa la vigilanza e l'attenzione critica dell'opinione pubblica che deve esprimersi ben prima delle sentenze dei tribunali combattere la zona grigia dell'acquiescenza culturale e sociale della pigrizia e dell'assismo. E questo era, credo, il senso profondo del movimento del dissenso. È innanzitutto sul piano etico-politico dell'impegno intellettuale che l'ispirazione originaria del dissenso cattolico resta attuale. Questa attualità è resa necessaria dal fatto che non sono molti sul piano sociale, politico, culturale, non sono molti coloro che mettono in pratica l'ammonimento del premio nobello Octavio Passi, il grande poeta messicano, secondo il quale il primo dovere dell'intellettuale è denunciare senza tentennamenti le scorrettezze del proprio gruppo di riferimento. La necessità del dissenso deriva dunque dal fatto che i fini della causa per la quale ci si batte non possono costituire l'unico criterio dell'azione individuale. In realtà la logica delle istituzioni, finalizzate esclusivamente all'autoriproduzione, utilizza il richiamo dei fini ultimi per coprire la scelta di mezzi discutibili, spesso moralmente ripugnanti, in qualche caso anche illegali, il cui uso non è affatto indispensabile per garantire la vittoria della causa, ma soltanto per garantire la sopravvivenza dei gruppi dirigenti e il loro attaccamento al potere. Questo atteggiamento che deriva dall'esperienza del dissenso cattolico diventa una linea di condotta anche nell'esperienza politica. L'eredità del dissenso è quindi la sua attualità che ci invita a lavorare sulla zona grigia dell'acquiescenza passiva al potere e alla sua presunta sacralità. Occorre riconoscere la grande forza persuasiva delle appartenenze e della loro pretesa unanimistica. Sottrarvisi e denunciarle significa anche esser consapevoli della loro capacità seduttiva e perciò impone di mantenere alta la vigilanza. In definitiva, solo un pensiero critico e autocritico, e da qui l'importanza del riferimento all'ermeneutica, può alimentare una cultura creativa che sappia fronteggiare la temporalità del futuro senza ridurlo alla pura e semplice dilatazione spaziale del presente. Il dissenso cattolico entrava in polemica con l'autorità ecclesiastica proprio perché quest'ultima presumeva di chiudere una volta per tutta la discussione sul potere, cioè presumeva di chiudere una volta per tutta lo spazio dell'interpretazione. E poiché in questa sezione di questa giornata di commemorazione del lavoro di Mimì, dobbiamo occuparci in modo particolare della sua prestazione filosofica, io vorrei incogliere, ribadire quello che in fondo già ho precedentemente evocato, che è da quello che ho detto finora, che nell'itinerario più propriamente filosofico di Mimì emerge l'attenzione alla filosofia senza assoluto. Questa è la formula che Mimì ritrova nel filosofo Tevena, che è uno dei filosofi ai quali si è dedicato, che ha studiato e di cui ha riproposto l'opera, un'opera non così ampia, non così imponente come quella per esempio di Ricoeur a causa del fatto che poi Tevena morì e quindi non aveva compiuto, potuto produrre un'opera molto vasta. Ma è proprio l'idea di una filosofia senza assoluto e quella che poi muove anche la sua attenzione filosofica e addirittura l'amicizia personale per Ricoeur e per la sua ermeneutica, a proposito della quale vorrei concentrarmi esclusivamente sul desiderio di giustizia, un tema solo evocato poco fa nella parte iniziale del mio intervento, che mi pare decisivo al centro, mi pare essere decisivo per cogliere la originalità della rilettura del pensiero di Ricoeur da parte di Mimì. Ogni volta che si presume di poter chiudere il processo, il processo di innovazione, il processo storico-sociale, il processo di cambiamento, ogni volta che si presume di poterlo racchiudere, perché si ha la pretesa di averne colto il motivo essenziale, si entra nella filosofia della storia, restando così debitori di uno schema concettuale che ha la pretesa di poter svelare una volta per tutte ciò che Montale chiamava l'ultimo segreto delle cose e si ha la pretesa che l'origine della realtà si sia definitivamente disvelata a chi ha la capacità di coglierla. Ed è esattamente questa pretesa dialettico-speculativa che il pensiero di Ricoeur, animato da quello che Tevena aveva chiamato filosofia senza assoluto, è esattamente questa pretesa che il pensiero di Ricoeur nega in maniera ostinata, nega senza riserve. Lo stesso cogito, il tema cartesiano che è al centro della riflessione di Ricoeur e che costituisce poi, come sapete, il titolo del libro più bello, forse il primo, il più compiuto che Mimì ha scritto su Ricoeur e che si chiamava il cogito e l'ermeneutica, ecco lo stesso cogito prima che attestazione ontologica è sforzo e desiderio di essere. Ben inteso però deve trattarsi di un desiderio che non ha niente di nostalgico, cioè di un desiderio che non aspira a ritrovare l'intimità di una immediatezza perduta, ma che è mosso dal sogno, che non è mosso dal sogno di una pienezza primordiale, che non mira a ritrovare nessuna coincidenza di realtà e idealità, ma che è invece spinto dal progetto, dal desiderio appunto di realizzare qualcosa di nuovo. Ritorna qui la centralità ermeneutica del linguaggio che è stata evocata prima, cioè delle molteplici elaborazioni simboliche con cui le culture umane elaborano i significati dell'esperienza e le motivazioni delle azioni soggettive. Senza le mediazioni messe in alto dal linguaggio, lo sforzo e i desideri che costituiscono l'esistenza umana non potrebbero prendere corpo, proprio perché la loro realizzazione non è mai istantanea o immediata, non si risolve in un attimo, ma esige l'attraversamento faticoso della dimensione storico-sociale. La comprensione filosofica dell'esistenza umana culmina dunque nell'impegno ermeneutico, mirante a fornire un'interpretazione ininterrotta, perché mai definitiva dei suoi significati, non si chiude mai, non c'è mai la conciliazione o il compimento, c'è sempre un andare avanti. Ciò è decisivo, perché solo attraverso la decifrazione dei segni nei quali si esteriorizza e si materializza l'esistenza umana senza mai compiersi, solo così è possibile cercarne il senso, interrogarlo e aprirlo all'eventualità della sua trasformazione. In tal modo l'opera di Ricoeur, nella rilettura originale di Mimi, coniuga in modo fecondo l'attenzione per il soggetto e l'interesse per la storia. Non a caso Ricoeur ha sempre rivendicato e ribadito l'originalità e la creatività delle manifestazioni storiche e culturali dell'esistenza, si pensi per esempio a lungo in confronto con Freud, ma al tempo stesso la sua riflessione ermeneutica non dimentica mai che la creatività umana ubbidisce a delle regole ed è proprio la presenza di regole invarianti che rende legittimo e necessario il ricorso alla dimensione metodologica delle scienze umane, trascurata dal filone heideggeriano-gadameriano dell'ermeneutica novecentesca. Negli ultimi anni la ricerca di Ricoeur si è decisamente orientata verso una ermeneutica della condizione storica. Questa è una formula usata da Mimi, che parla per quanto riguarda l'ultimo tratto dell'opera di Ricoeur, quel tratto che Mimi rileggeva con particolare attenzione, un'ermeneutica della condizione storica, in cui si ritrova il ruolo centrale della mediazione precedentemente già richiamato. Quest'ultima, la mediazione, si presenta come risposta al desiderio di giustizia, che costituisce una componente fondamentale dello sforzo d'essere. Il cogito non è altro che sforzo d'essere e sforzo d'essere è animato dal desiderio di giustizia. Chi funge da mediatore è ora la memoria, che sempre di nuovo congiunge e separa l'esistenza e la storia, senza però poter mai pervenire a un esito definitivo. La sua ultima parola, infatti, è la incompiutezza della condizione umana e questo è un elemento che Mimi ritrovava, riceveva anche già da uno dei suoi primi maestri, Pietro Piovani. Ecco perché solo un desiderio non nostalgico può aspirare alla giustizia, solo un desiderio che non parte dal presupposto di ritrovare una compiutezza perduta e quindi di mirare al ricongiungimento nella compiutezza. Un desiderio non nostalgico può aspirare alla giustizia, solo esso. Quest'ultima va distinta tanto dalla conformità alle leggi quanto dal senso del dovere morale e soprattutto va ribadito che la giustizia non è una caratteristica logica o sostanziale di cui sia o sia stato o possa un giorno essere accessibile un modello ideale perfetto. La giustizia è sempre e soltanto un attributo dell'esperienza sociale storica, al cui interno essa di volta in volta emerge come aspirazione che prende corpo a partire dalla denuncia dell'ingiustizia, dal vibrare, dalla indignazione che vibra per il male a cui assiste, che non è mai caratterizzato dal fatto compiuto di fronte al quale occorre rassegnarsi ma che è sempre il male che deve essere denunciato. Perciò la nozione di giustizia è legata alla constatazione del male, alla denuncia della violenza e dell'usurpazione. Prima del desiderio di giustizia e come sua radice c'è dunque la denuncia dell'ingiustizia, il giudizio sul male. In questo modo la giustizia si configura come oggetto di un desiderio che nessuna organizzazione sociale determinata potrà mai saturare. In questa direzione vanno le parole di Castoriadis che ora rileggo e che diciamo così costituiscono il senso ultimo del mio breve intervento. Giusta non è la società che ha adottato una volta per tutte leggi giuste, una società giusta è una società in cui la questione della giustizia resta costantemente aperta, cioè resta costantemente oggetto di un desiderio che non si satura. In altri termini in cui vi è sempre la possibilità socialmente effettiva di sollevare l'interrogazione sulla legge vigente e sul suo fondamento. Mi fermo qua. Bene, grazie. Ecco, ringrazio il professor Ciarabelli per questa ampia ricostruzione di tutta la riflessione di Domenico sui vari fronti della sua politica filosofica e nella fattispecie della sua militanza cristiana. Lui è stato un filosofo cristiano. È stato uno dei protagonisti della rivista Il tetto di Pasquale Colella. Ha fatto tante battaglie in tali direzioni e tra l'altro sempre con l'occhio, come dire, rivolto al rinnovamento, al filo conduttore, diceva il professor Cerametti, della rivendicazione della laicità. È quella istanza di rinnovamento che il dissenso deve portare avanti. E mi pare che ecco una bella parola, colto proprio nel suo intervento, è la parola senso. In fondo il tema del senso, lottare per il senso, per il senso di una vita migliore, di una vita diversa, ma anche per il senso di una umanità migliore, vedeva in Ricoeur delle potenti suggestioni e proprio in riferimento a Ricoeur l'attenzione, come dire, al soggetto e l'attenzione alla storia. Ma una filosofia della storia, direi così, un po' di matrice ereticale. Ecco, non una filosofia della storia consolatoria. Bene, allora, io ringrazio molto il professor Cerametti perché voglio dire, ci ha dato un profilo fondamentale e importante di tutta l'attività di Domenico. Adesso, se non c'è il...